Salve a tutti ragazzi qui è CharmKeyParla e benvenuti in questo nuovo video oggi farò una specie di resoconto o come dire report diciamo del tour panini che è stato ieri domenica 20 gennaio qui a Palermo la prima tappa e io ci sono andato allora innanzitutto sono tornato a casa con questo malloppone di carte nuove da appiccicare ora le devo appiccicare appunto sono tornato a casa con due album in più perché in pratica davano il promopack diciamo che era un album dei calciatori più una bustina omaggio io in caso ne ho prese due perché ero in due io e mio padre e appunto ho preso un album come potete vedere è vuoto all'interno è un altro che è questo completamente vuoto anche questo ed è omaggio questo pure mentre questo è quello mio proprio dove appiccico le figurine allora perfetto quindi per prima cosa vi faccio vedere cosa le figurine le sei figurine che ho trovato dentro ad ogni album ecco qui allora abbiamo nagatomo aspettate metto lo zoom perché allora ok nagatomo eh blasi pinzi amsic che ho doppio quindi posso scambiarlo eh cristic cristic ferronetti perico rolin lich steiner mauri dibala palo dibala grande e infine oh di eh questo d'agostino ok adesso invece vi faccio vedere le carte che mi hanno scambiato comincio da questo all'oppone qua forse aspettate un attimo ragazzi ok perfetto cominciò con le carte normali diciamo mezza squadra della Lazio l'altra metà adesso lo completa alcune perché in pratica alla panini ne potevi dare soltanto 10 di figuri nel loro te ne davano 19 9 io quindi che ho fatto? me ne sono prese 20 da la panini e le altre me le sono fatte scambiare da cioè c'era un casino di collezionisti che volevano scambiare quindi ho scambiato con molta facilità eh vabbè Brescia Rosi Abbate Andanovic questo l'ho trovato nelle bustine e anche Caceres Virtus Lanciano Cittadella Varese dovrebbe essersi Cossu Biondini Balzaretti Del Neri Denis Bascia Basta Basta mezza squadra dell'Atalanta che poi mi sono accorto che già ho peccato Armero Zanon che ho pure Padova squadra del Padova mezza squadra della Lazio che poi l'ho trovata nelle due bustine quindi questa è da scambio Frey mezza squadra del Cagliari squadra del Provercelli e qui abbiamo 4 squadri Poggi Bonzi Poggi Poggi Bonzi Poi abbiamo Por eeh asperto Ponte D'Ira Ponte D'Era non so cosa ability Salernitana è Teramo Poi Marimoto Ferranetti E Curci Agliardii Galloppa Wolantuono Sorvas, Morales, poi Scudettini del San Marino, Sud Tirol Alto Adige, Trapani e Treviso, poi Bizzardi, e poi questo dovrebbe essere il Viareggio, Estra, Alessandria, Bassano Virtus, e questo non lo so, non ricordo proprio. Bene, queste sono diciamo le carte normali, poi ne abbiamo un poco della Primavera, perché mi sono detto, va bene, prendo un poco anche della Primavera, così ne prendo un poco della Primavera, sì. Allora, aspettate, Atalanta e Bologna, Fiorentina e Genoa, Lazio e Napoli, Atalanta, no aspetta, cioè ma che pic fail ho fatto? Mi ho preso dopo, non me ne ero accorto, peccato, e vabbè, perché poi appunto c'era un casino, non si capiva più niente, Atalanta e Bologna, e Palermo e Pescara. Ovviamente non potevo non prendere quella del Palermo. Perfetto, poi mi sono fatto scambiare da altre persone, tre giocatori del Palermo, perché del Palermo la Panini non ne aveva più. Mi ho fatto scambiare Idicic, Hernandez e Dybala. Poi, mi sono fatto scambiare tantissime figurine dal calcio che cambia, come questa, questa che ho doppio, poi questa, 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 questo è Occhio di Falco e questa, che appunto è quella che ho doppio, quindi la scambio. Poi, una cosa molto importante, sono queste qui, il trofeo della Serie A, il trofeo della Coppa Italia e il logo della Serie A Team. Così adesso mi manca soltanto il logo della Supercoppa e ho finito questi loghi. Poi, 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 passiamo ad un'altra cosa, gli scudetti. Allora, aspettate un attimo. Qui intanto vedete il mio computer, sì. Il dietro è il mio computer, anzi. Aspettate un attimo, perché... Ok. Perfetto. E là c'è la mia cassa che è caduta a terra. Ok, allora. Per gli scudetti abbiamo Brescia e Cesena, che mi sono fatto scambiare, anche se è un po' rovinato, ma non ci fa niente. Poi, Ascoli e Bari, che mi sono fatto dare alla Panini. Livorno e Modena. Empoli e Grosseto. E poi, per ultimo, Cittadella e Crotone. E con questi scudettini qua, questi cinque scudettini, io ho finito tutti gli scudetti della Serie B. Quindi, ottimo. Poi abbiamo, per la Serie A, scudetto del Genoa, che mi sono fatto scambiare. Scudetto del Parnua. Mi ho chiesto alla Panini. Atalanta, pure alla Panini. Sampdoria, uguale. Chiavo-Verona, uguale. E Siena, uguale. Poi ho anche lo scudetto dell'Inter, che fortunatamente l'ho trovato nelle due bustine omaggio che ho aperto. Questo è stato un bel colpo di fortuna. Poi, ragazzi, guardate un po' cosa mi sono fatto scambiare. Sono delle X, quindi delle esultanze. Proprio così. Ce le avevano in pratica quasi tutte le esultanze, quindi quelle che mi mancavano io me le sono fatte dare. Allora, abbiamo El Sharawi, la parte di sopra, che a me mancava. Mi dito la parte di destra, che a me mancava, quindi l'ho completata. Io, Veticia, parte sopra, mi mancava, l'ho completata. Cavani, la parte di sinistra, che mi mancava, l'ho completata. Giardino, la parte sopra, mi mancavano tutte e due. Vital, la parte sotto, mi mancavano tutte e due. E infine Close, la parte destra, che mi mancava per completare. Quindi, appunto, adesso ho completato un sacco di esultanze. Mi manca soltanto metà parte di Natale, metà parte di, come si chiama? Mi viene in mente. Vital, di Girardino, e poi basta forse. Sì, mi sembra proprio di sì. Quindi, ragazzi, vi consiglio veramente di andare al Turpanini, perché veramente è una cosa spettacolare. Potete scambiare un sacco di carte, quindi anche per quelle nuovissime, appunto, come quelle che mi sono fatto dare io un sacco di esultanze, perché le avevano tutte da me, almeno a Palermo. Quindi, ragazzi, mi raccomando, un bel pollice in su, iscrivetevi qua sopra e alla prossima. Ciao, ciao a tutti ragazzi.